Eccoci, buonasera a tutti e benvenuti al webinar numero 165 della serie Dialogo con gli Autori, un progetto nato nel 2017 per dare la possibilità ai lettori di approfondire gli argomenti direttamente con l'autore. Io sono Rosa Tumolo, direttrice del Giardino dei Libri, la prima libreria online specializzata in anima, corpo, mente e spirito. Questa sera parleremo di come realizzare i nostri contenti grazie al potere della gratitudine. Sarà una serata speciale perché ci sarà anche una parte pratica verso la fine della serata con una bella meditazione. Di tutto questo ci parlerà una ospite gratuitissima in collegamento in diretta anche mia cara amica Lorella De Luca. Ciao Rosa, grazie, ciao a tutti, benvenuti qua questa sera ad ascoltarmi, grazie ad ognuno di voi, grazie per l'ospitalità al Giardino dei Libri che da tanto tempo mi accompagna e mi sostiene. Grazie di cuore a tutto lo staff. È veramente un piacere per noi, come sai, averti ospite del Giardino dei Libri. Vedo che stai benissimo. Da dove sei collegata questa sera? La zona? Sono a casa mia, sono a Roma. Per la precisione sono vicino al mare, a Ostia e c'è un clima bellissimo, c'è molto caldo e sono giornate particolari, particolari di cambiamento. Non so se l'avete sentito anche voi, si sta alleggerendo tutto. Poi dipende uno da quale frequenza percepisce di più. Però è proprio... io ho una sensazione di benessere, di ottimismo, ecco, come se si stesse trasformando tutto per il nostro bene. E quindi sono molto felice di essere qui con voi a parlarvene di come mi sento. Bene, noi non vediamo l'ora di ascoltarti, però prima volevo innanzitutto ti informo che abbiamo 2.570 iscritti e questo mi fa sempre molto piacere. Ciao a tutti. Anche stasera siamo in tanti. Grazie a tutti. Allora Lorella, io voglio presentarti agli iscritti per chi ancora non ti conosce, ok? Sì. Allora, Lorella De Luca è naturopata, è ideatrice di metodi di guarigione olistica. Dopo aver risvegliato le sue facoltà interiori tramite la meditazione, ha deciso di insegnare agli altri tutto quello che sa sui poteri dell'anima. Nei suoi seminari di Theta Love e Anima Healing, che tiene in tutta Italia, insegna e sviluppa la consapevolezza per ascoltare meglio i messaggi del cuore. E da quando ha incontrato Genesa Cristal, crea e aiuta le persone a costruirne il modello. Il suo obiettivo è quello di realizzare una rete di persone che si adoperino per migliorare loro stesse e il mondo attraverso l'utilizzo consapevole dei propri cuori e delle proprie menti, potenziate da dispositivi radionici. E Lorella, sei anche autrice di vari libri, le voglio presentare subito tutti. Allora, il primo è la Genesa Cristal, la vita può espandersi in qualsiasi direzione. Per noi è un bestseller che a me è piaciuto tantissimo, infatti assieme, se ti ricordi, abbiamo fatto un altro webinar a 2021 con questo tema. Un webinar bellissimo che consiglio di andarlo a vedere. Poi hai fatto quest'altro libro, Animal Healing, tecnica di guarigione spirituale degli animali. Poi voglio far vedere la luce dentro di me. Il primo? Il primo, sì. La natura ci fa belli. Eccolo qua. I segreti di madre natura per una vita sana, felice, in un corpo armonioso. Sì. E pochi giorni fa è uscito il tuo libro, eccolo qua, che lo voglio far vedere. Vediamo se si vede bene. Eccolo qua, così, sì. Il libro Oracolo delle Gratitudine. Se domandi, risponde. Lorella, a me questo libro mi è piaciuto tanto e lo consiglio. È un libro oracolo in modo che per connettersi alla nostra parte interiore. E ricordo che il libro è acquistabile sul Giardino dei Libri, il Giardino dei Libri www.ilgiardinodelibri.it. Per chi lo acquisterà questa sera avrà le spese di spedizione gratuite e ci saranno ben due omaggi riservati solo per i clienti del Giardino dei Libri. Ma di questo, Lorella, ne parleremo dopo il tuo intervento, va bene? Sì, sì, sì. Bene. Senti, Lorella, allora, questo libro che è appena uscito ne abbiamo vendute noi personalmente, al Giardino dei Libri, tante copie. Questo vuol dire che c'è un grande interesse su questo argomento e, che dire, mi fa molto molto piacere. Io, prima di continuare la serata, volevo ricordare innanzitutto a tutti i partecipanti che, se volete, potete fare delle domande inerenti al tema di questa sera. Sullo schermo, nella vostra parte a destra, troverete una chat dove potete scrivere le vostre domande. Lorella vi risponderà dopo il suo intervento. Allora, Lorella, questo libro a me personalmente mi ha incuriosito. Prima di lasciarti la parola, mi sono preparata due domandine da farti. Allora, la prima domanda è questa. Da quale esperienza di vita nasce questo progetto sulla gratitudine? C'è stato un evento in particolare che ti ha portato a ringraziare tutto e tutti? Sì, sì, sì. È stato ancora prima della Genesa Crystal. Se ti ricordi l'anno scorso quando parliamo della Genesa Crystal, raccontai di una mia caduta che poi mi portò alla Genesa Crystal, caduta tra virgolette. Invece il progetto della gratitudine è stata una caduta ancora prima, precedente a quella della Genesa, un momento della mia vita. Io adesso lo racconto con il sorriso, ma in realtà è stato un momento molto forte della mia vita, nel quale ho avuto un problema di salute fulmineo, per cui in quel momento c'è stata una voce dentro di me che mi ha proprio detto, guarda, in questo momento puoi decidere, visto che non ti va bene niente, puoi decidere se andare o stare. E in una frazione di secondo questa voce mi ha mostrato davanti a me quello che avrei lasciato se io me ne fossi andata in quel momento, perché era un problema di salute molto forte che poi mi hanno raccontato, mi hanno spiegato che poteva essere stato un infarto, che io ho passato comunque da sola a casa. Quella voce mi fece vedere delle cose bellissime, le mie figlie grandi, ho visto anche un nipotino, ho visto viaggi, amicizie, una vita bellissima che avrei lasciato. E lì per lì non me la sono sentita, non me la sono sentita e lei mi ha detto, guarda, allora se vuoi rimanere, adesso basta lamentarti, devi ringraziare tutto, ma proprio tutto. E da lì c'è stato lo shift, da lì c'è stato il cambiamento radicale, perché io ho promesso a quella voce che avrei ringraziato tutto. Ed eccomi qua, ed ecco il perché. Molti mi dicono, ma tu ringrazi sempre per tutto, non è una cosa pensata, ma è una cosa sentita. Io sono grata alla vita per essere qui oggi e io ringrazio tutto perché lo sento dal cuore è che tutto quello che c'è per me è tantissimo, è inestimabile, perché potrei essere morta a questo punto, invece sono qua con voi, sono qua a vivere con le mie figlie e voglio che ogni persona che mi incontra abbia un bel ricordo di me quando sarà il momento che non ci sarò più. Ecco cosa è stato, Rosa. Quindi da lì dopo ho iniziato a pensare a tutte le cose che ringraziavo col cuore, infatti anche l'oracolo spiega in modo spirituale il perché ringrazio quella data cosa, quella data persona o quella parte del mio corpo, perché non è ringraziare basta con le parole, è un ringraziamento sentito che deve essere un qualcosa che ti riempie quando tu dici grazie, non semplicemente grazie come spesso si fa, no? Che si dice così per abitudine o per così per educazione. No, deve essere un grazie sentito perché tu davvero in quel momento sei presente a te stesso e pensi, pensi, questa cosa ce l'ho, questa cosa la posso ringraziare, che bello, c'è ed è diverso, è diverso vivere così e sono molto felice di poter vivere con voi questa gioia. Grazie innanzitutto di aver risposto a queste mie domande, perché poi in realtà non era una, ma erano due. È bello quello che ci hai in questo momento condiviso. Allora Lorella, vedo che già iniziano a fare i commenti i partecipanti, ora ti lascio la parola e sono davvero molto curiosa di ascoltarti. A te la parola, intanto io e il mio staff selezioneremo le domande dai partecipanti da farti subito dopo il tuo intervento. Benissimo. A te la parola. Sono pronta, grazie. Quindi per ritornare al momento in cui sono stata male, è da lì che mi si è aperto davanti a me una visione diversa di tutto quello che mi era accaduto fino a quel momento e quindi non solo quella voce mi ha fatto vedere che cosa avrei lasciato, ma mi ha fatto vedere quello che avevo vissuto da concepimento, nascita e fino a quel momento da un punto di vista di grazie a ti è successo questo. E allora ripensando, ve ne cito alcune di cose che io ringrazio anche se uno direbbe ma come come fa a ringraziare quella cosa. Per esempio io ringrazio mio padre che da piccola mi dava le botte perché io avendo preso le botte da mio padre sono diventata una mamma che non mene i figli, che non usa la violenza con i propri figli. Da mio padre ho imparato tante belle cose nel senso che lui è una persona che mi ha insegnato la gestione del denaro, la gestione della vita, la sicurezza, però quel lato lì che molti potrebbero dire ah però ti ha pestato di botte, come fai? Io adesso ho la visione, ho quella visione di gratitudine che mi fa accettare, accettare quello che è stato il mio passato e mi ha fatto guarire le mie ferite di bambina maltrattata. Potrei dirvi anche grazie al fatto che lui si è ammalato di cancro, io ringrazio questo, non perché ringrazio che si è ammalato, però ho visto il lato positivo grazie a quel fatto io mi sono iscritta a naturopatia perché quando ho saputo che lui aveva il cancro ho pensato che dovevo trovare un modo per aiutarlo a guarire, quindi mi sono iscritta a naturopatia e ho iniziato a studiare tutti i metodi possibili e immaginabili per guarire il cancro in modo naturale e quindi grazie anche alla sua esperienza di uomo ipocondriaco che poi mi ha trasferito a me perché anche io sono sempre stata una ragazza molto ipocondriaca, mi ha dato modo a me invece grazie a naturopatia, grazie a tutti i corsi che ho fatto e le ricerche che faccio di non avere più paura di ammalarmi e accettare la malattia perché in realtà è una benattia e ve ne potrei citare mille di cose che nella mia vita non ho mai accettato ma che adesso vedo con occhi diversi. Potrei dirvi io ringrazio anche il fatto che il mio matrimonio sia finito perché questo prendere due strade diverse per me e il papà delle mie figlie mi ha dato modo di diventare chi sono adesso e di non essere più incastrata in un ruolo che mi ero creata che non mi che non mi andava più bene, che mi stava stretto e tutte le pagine di questo oracolo contengono le cose, gli aspetti della vita che ho iniziato a ringraziare e che tutti dovremmo ringraziare e sono molto felice di essere qui con voi oggi a trasferirvi la mia pienezza nell'aver finalmente compreso questa cosa, aver finalmente compreso che la vita è meravigliosa e che è molto più semplice di quello che immaginiamo farla diventare la vita che abbiamo sempre sognato quindi la realizzazione degli intenti non la vedo più come una cosa difficile o solo per alcuni ma la vedo una cosa possibile per tutti se iniziamo a ringraziare quello che abbiamo già perché è stato da quel momento della mia vita in cui ho iniziato a ringraziare tutto che sono cambiata, che sono maturata, che sono diventata genitore di me stessa innanzitutto ringraziando i miei genitori per come sono stati con quello che hanno fatto verso di me che può essere visto come negativo o positivo, non importa è un tutt'uno oppure ringraziando il mio corpo io prima di questo shock che ho vissuto, di questo momento particolare non mi occupavo del mio corpo se non mangiare, bere, dormire truccarmi, darmi delle creme ma non mi allenavo, non facevo un movimento non facevo neanche caso tanto a quello che mangiavo non avevo mai fatto un digiuno non avevo mai calcolato bene quale fosse il cibo che mi faceva un effetto migliore quindi nel ringraziare il cibo perché adesso ogni volta che io mangio lo benedico cioè proprio lo sento dal cuore che sono grata in quel momento per quel cibo e lo gusto all'ennesima potenza come se fosse che io non mangio da 20 anni però in realtà ho appena mangiato un'ora prima però ho quella sensazione di beatitudine ogni volta che faccio qualcosa e questo si è attivato secondo me proprio nel momento in cui ho sentito che io potevo non esserci più potevo andarmene potevano scomparire però vorrei che non dovesse succedere anche a voi cioè io vorrei questa sera anche con la meditazione che faremo trasferirvi la possibilità di essere grati per tutto senza dover arrivare a un punto in cui siete messi alle strette e quindi c'è qualcosa che vi obbliga a fare questo come è successo a me io sono arrivata a quel punto perché avevo un ego spirituale smisurato dico la verità mi ci vedo adesso prima non mi vedevo avendo fatto tanti corsi di naturopatia corsi spirituali meditazione mi sentivo diversa dagli altri ma da un punto di vista di ego e quindi spesso criticavo chi magari non si prendeva cura di sé o chi magari non faceva un percorso mentre adesso è diventato tutto uno riesco a vedere ogni persona che incontro come anima come anima che sta facendo il suo percorso personale è dove è ed è giusto che sia così e io mi sono tolta quel ruolo di salvatrice di croce rossina chiamala come vuoi perché ho cercato di far sì che il mio ego diventasse umile cioè quindi c'è l'ego ma è umile è un ego che sa perché mi deve portare nel mondo e ovviamente mi deve anche dire là dove posso fare o non fare qualcosa ma è un mio alleato adesso non è più un qualcosa che mi mette i bastoni tra le ruote e il mio desiderio con questo oracolo è di facilitare la vita a sempre più persone a realizzare i loro desideri nel realizzare i loro stessi nell'avere una salute perfetta perché si può avere ma dobbiamo partire dalla gratitudine dalla gratitudine di tutti quegli ingredienti che portano ad avere una buona salute e una buona vita e quindi iniziando adesso ve ne dico qualcuno perché sono tanti sono 60 il corpo quanti di noi ringraziano il proprio corpo? cioè solitamente il corpo noi lo usiamo come una macchina e poi quando ha qualcosa ce ne prendiamo cura perché ha qualcosa che non va e no, non deve essere così deve essere che il corpo viene visto come un tempio sembra banale dirlo perché viene detto tante volte usa il corpo, il tempio dell'anima eccetera eccetera però dobbiamo farlo davvero e come si fa? è stando attenti a quello che ingeriamo stando attenti a quello che mettiamo nel corpo perché lui non può fare tutto da solo cioè lo so che è una macchina perfetta però se noi non sappiamo le istruzioni se non abbiamo il libretto delle istruzioni di questa macchina che però esistono basta solo ricercare perché così come le ho trovate io le potete trovare voi e potete mangiare meglio potete allenarvi fare sport io non avevo mai fatto sport in vita mia se non alle medie facevo pallavolo ma dopo crescendo diventando mamma non ho mai più fatto nulla perché non avevo neanche il tempo sinceramente perché lavoravo con le bimbe piccole quindi prendermi invece cura del corpo e allenarmi tutti i giorni in bicicletta o anche solo facendo meditazione è comunque una cosa che ti appaga lo dovreste provare cioè di tutti gli aspetti di questo oracolo e la bellezza è che tu lo apri a caso ogni mattina e lo apri nella pagina giusta perché vi capiterà la pagina giusta ma per esempio adesso è arrivato la pagina degli amici il ringraziare gli amici per esempio siamo passati dal corpo ringraziare il nostro corpo per avere una buona salute e se hai una buona salute puoi avere anche delle buone relazioni puoi avere anche dei buoni amici e puoi scegliere i tuoi amici e puoi decidere quali amici avere anche perché a volte ci sono delle persone che non sono davvero in sintonia con noi e non c'è niente di male a decidere invece di frequentare quelli più in sintonia perché fa parte anche questo della gratitudine cioè noi possiamo ringraziare anche quelle persone che in quel momento ci stanno sul cavolo per non di un'altra parola perché ci fanno vedere delle parti di noi che magari non riusciamo ancora ad accettare o a smussare non so come dire trasformare e però se sappiamo che non siamo compatibili possiamo anche decidere di ringraziare che abbiamo capito quella cosa ma non frequentarli come anche ringraziare gli angeli per dire gli angeli inteso come esseri spirituali che vivono qui nella parte invisibile che ci sono e che li possiamo invocare e che possono aiutarci nella vita di tutti i giorni a materializzare i nostri intenti però nel mio caso per arrivare a un appagamento materiale c'è voluto prima questo shock questo shock di poter ringraziare tutto ma proprio tutto tutto anche le cose più spiacevoli che ci sono successe cambiare la frequenza arrivare a una frequenza di pienezza di soddisfazione perché questa è la gratitudine la gratitudine deve essere che tu sei soddisfatto mentre lo dici e non è un semplice grazie detto così come mantra come spesso si fa almeno nel mio caso non mi non mi non contava non mi dava effetti dirlo solo ripetutamente nel mio caso ci è voluto proprio il ti faccio vedere come si sta senza quella cosa così davvero senti la pienezza quando ce l'hai quindi molti mi dicono ah ma io non riesco a cambiare lavoro oppure non riesco a cambiare casa oppure non va bene col mio partner e poi mi accorgo che mentre parlano c'è una lamentela continua come ero io no? che mi lamentavo di tutto e non va bene cioè le cose cambiano e si manifestano come voi le volete se prima ringraziate quelle che non volete quelle che non vi vanno bene perché è grazie a quelle che non vanno più bene che non sono più per voi che potrete accettare che ci sono per un motivo sono proprio propedeutiche all'arrivo di quello che realmente volete è questo secondo me è il segreto e ho voluto farlo diventare un oracolo affinché fosse semplice per tutti alla portata di mano di tutti perché comunque lo possiamo tenere sul comodino aprirlo io faccio così alla mattina appena mi sveglio lo apro e non è mai un caso quello che appare per esempio mi è arrivato adesso le montagne chi ha mai ringraziato le montagne cioè io non le avevo mai ringraziate le montagne o il sole ma chi mai la ringraziate le montagne il sole i fiori cioè i fiori sono belli e le montagne è bello andare in montagna ma chi mai le aveva viste come esseri viventi come esseri che ci stanno portando dei messaggi che stanno modificando la nostra vita perché quando tu vai in montagna se inizi a percepire l'energia della montagna che è un essere vivente a tutti gli effetti la senti parlare cioè la senti dentro il tuo cuore senti proprio l'energia e diventi la montagna ed è diverso ringraziare una montagna se tu sei la montagna in quel momento piuttosto che il fiore il fiore che tu vedi che è bellissimo è una cosa ringraziarlo con la testa è una cosa ringraziarlo con la testa e il cuore in coerenza bisogna creare questa coerenza tra il pensiero e il sentimento e per creare questa coerenza nel mio caso è stato utile pensare a come mi sarei sentita se non avessi avuto quella cosa ma non vuol dire che tu devi pensare alla sofferenza perché non ce l'hai più no non è questo il concetto il concetto è che bello che c'è questa cosa pensa se non l'avessi pensa se non l'avessi mai avuta eh pensate ai vostri genitori se non ci fossero stati voi non sareste qua e allora molti dicono ah però mio padre mia madre è stato così 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 basta non è più il tempo non è più il tempo di lamentarsi questo mio oracolo è un invito a tutte le persone a fare come ho fatto io passare dalla lamentela alla gratitudine passare da quello stato di mancanza a uno stato invece di abbondanza perché quando tu inizi tutti i giorni a ringraziare questi aspetti che qua sono solo 60 ma sono infiniti tu sarai una persona ricca in tutti i sensi te lo posso mettere per iscritto perché se ci sono riuscita io a sentirmi ricca così assolutamente senza niente perché non ho granché cioè non è che ho una vita che oddio vivo in un castello ho la Ferrari ho il Conte in banca sono un umile essere che Dio ha mandato e vivo molto umilmente ma vi assicuro che io mi sento la donna più ricca del mondo nonostante questo nonostante io non abbia diciamo i beni materiali per poterlo dire è perché tutta questa è la ricchezza la ricchezza è racchiusa in questo oracolo e funziona grazie alla chiama la legge di attrazione perché magari tu leggendo quello che ti è uscito quel giorno per legge di attrazione pensi a quella cosa per tutto il giorno e la ringrazi quindi la aumenti nella tua vita o si può dire anche che funziona grazie alla sincronicità la sincronicità è secondo Jung è quel potere che tutti hanno di far accadere le cose grazie all'inconscio quindi aprendolo a caso che non è mai a caso il tuo inconscio la tua parte diciamo spirituale fa aprire la pagina proprio su quella su quell'aspetto da ringraziare in quel momento e ti può aiutare a migliorare te stesso e la tua vita a me mi è uscito i figli molto spesso noi con i figli abbiamo conflitti ce li ho anch'io a volte ma i conflitti non li vedo più come una cosa negativa cioè la vedo come una spunto di riflessione per potermi migliorare e quindi non li evito più perché evito le cose negative come si fa con le malattie uno evita la malattia quindi si prende la cosa per supprimare il sintomo no deve essere grazie a quel conflitto grazie a quel momento di rabbia grazie a quel momento di paura sono riuscito a sviluppare quell'altra cosa quindi in questo modo grazie al ringraziamento e alla gratitudine entriamo in uno stato di soddisfazione comunque sia comunque sia e me ne sono capitate di cose per cui qualcun altro avrebbe potuto dire ma come è fatto a perdonare quella persona o a perdonare quella quell'evento no come è fatto a ringraziarlo per una cosa così spiacevole perché cerco di vedere oltre cioè quando mi succedono delle cose spiacevoli ricerco di capire qual è il dono dietro qual è il regalo dietro quella situazione e poi un'altra cosa che ho cambiato nel mio atteggiamento di tutti i giorni non è più dire scusa se ti ho fatto aspettare a una persona che magari tu sei in ritardo la persona ti aspetta è grazie che mi hai aspettato oppure scusa se ti ho risposto male no è grazie che hai capito che ti ho risposto male perché in quel momento ero arrabbiata cioè proprio anche il linguaggio verbale può essere modificato e modificando la comunicazione cambia anche la nostra vita cambia anche la nostra quotidianità e quindi siamo davanti alla posta a fare la fila arriva una persona che magari non so vuole passare davanti oppure non so ci guarda ma non so a me non capitano queste cose quindi cioè solitamente io ho la porta aperta e la via preferenziale mi fanno tutti passare cioè perché so di emanare una buona energia però a certe persone non capita questo perché magari escono già da casa arrabbiati perché sono in ritardo o arrabbiati perché fanno un lavoro che non gli piace o arrabbiati perché hanno litigato col bambino che non si è messo col vestito o per altre che io chiamo adesso sciocchezze perché ho capito che le cose vere della vita sono la gratitudine appunto e sentirsi pieni sentirsi sempre nel posto giusto al momento giusto perché così è e possiamo in quel momento invece di vedere la cosa da un punto di vista egoico non so mi è passato davanti vederlo come vabbè in questo momento facciamo passare davanti questa persona perché sicuramente ha più bisogno di me ovviamente se una persona è sgarbata glielo si può dire cioè non è che noi dobbiamo subirle queste cose però molto spesso non serve molto spesso non servirebbe basterebbe soltanto un po' di pazienza e un po' di di amor proprio perché comunque quando uno si arrabbia per delle cavolate non si vuole bene non non è una persona che ama se stessa e ha cura delle sue emozioni perché sa che le sue emozioni potrebbero avvelenare il suo organismo e quindi bisogna sempre valutare tutto da quel punto di vista quanto mi amo io io mi amo talmente tanto che non ho neanche più tempo di perdere di perdere le emozioni di perdermi in emozioni negative o di criticare qualcuno perché tanto in quel momento non puoi cambiare la situazione devi soltanto vederla da un punto di vista più elevato e vi assicuro che praticando la gratitudine ogni giorno potrete sentirvi come dire più pieni più talmente soddisfatti soddisfatti di come siete voi e di come è la vostra vita e di come sono le cose di tutti i giorni vostre che non avete tempo di stare lì a criticare quello che fanno gli altri perché avete voglia di pensare a voi al vostro benessere alle vostre cose da ringraziare da vivere dunque chi ha già questo oracolo come si utilizza semplicemente aprendo una pagina a caso che non è mai a caso e osservando l'immagine con il primo aforisma perché l'aforisma che c'è sotto l'immagine è diverso dal concetto che c'è nella pagina a fianco inizia già a riflettere sul perché gli è arrivato quel messaggio dopodiché andando a leggere invece tutto il messaggio riesce a considerare quell'aspetto da un punto di vista anche spirituale perché ho cercato di come dire illustrare i vari aspetti da due punti di vista quello materiale e quello spirituale e noi dobbiamo avere tutte e due le visioni quindi quello metaforico spirituale e quello materiale e ricordatevi che tutti i libri possono essere un oracolo non solo il mio cioè tutti i libri aperti in un momento di raccoglimento nel quale noi chiediamo all'universo o al nostro inconscio o a Dio chiamate la divinità che voi preferite perché tanto non fa differenza e aprite quel libro fatelo anche questo esperimento se volete aprite il libro e puntate il dito in una riga a caso e vedrete che ci sarà la risposta alla vostra domanda quindi per ritornare al tema di questa sera come realizzare le vostre intenzioni grazie al potere della gratitudine è molto semplice basta iniziare dal ringraziamento di quello che già avete quindi non sono qua a insegnarvi niente di nuovo però vi ho portato la mia esperienza che è stata quella proprio di iniziare a considerare tutto come un valore inestimabile quindi se parliamo della mamma del papà dei figli degli amici tutte le nostre relazioni sono una fantastica rete di emozioni che ci aiutano ad evolvere con i loro pregi e i loro difetti che poi non sono né pregi né difetti però con il loro con le loro particolarità servono a noi succedono ci sono esistono per noi per noi per la nostra evoluzione così come tutti gli aspetti della natura il mare il sole gli animali gli animali possono essere visti come anche animali totem praticando la gratitudine e ringraziando tutti gli animali che voi incontrerete durante la giornata potrete fare come faccio io a volte se ne ho voglia andare a vedere su google l'animale totem che avete visto tipo ieri ero in pineta con un amico e gli si appoggia uno scarabeo di quelli verdi bellissimi cangianti qua proprio sul cuore e gli ho detto guarda guarda Max che ti ha benedetto questo scarabeo poi siamo andati a leggere perché lui non lo sapeva che aveva anche una valenza spirituale lo scarabeo come simbolo di animale totem e quindi leggendogli il significato di quell'animale lui si è rivisto tanto dunque quello che vi porterà ad avere sempre più gratitudine è vedere tutto quello che vedete intorno a voi da un punto di vista materiale e metaforico spirituale quindi faccio l'esempio io ringrazio l'aria che respiro l'aria che respiro la ringrazio perché è l'aria che dà ossigeno ai miei polmoni ma è anche l'aria intesa come la connessione con un grande spirito la connessione con Dio con l'invisibile l'elemento aria nei quattro elementi che ci insegna a connetterci con il tutto oppure posso dire ringrazio la mia casa perché mi ospita mi ripara mi piace è bella ed è materialmente la casa che desidero ma è anche lo specchio di come sono io perché secondo il feng shui la casa a seconda di come l'arrediamo dei colori che ha di dove sono collocate certe cose lavora anche a livello dell'inconscio quindi vi consiglio di andarvi anche a studiare qualcosina le basi del feng shui per poter modificare come sono messi i mobili nella vostra casa perché a seconda di dove diciamo noi siamo tipo la cucina mi sembra che sia la famiglia se non sbaglio il bagno se non sbaglio sono gli affari vabbè non me li ricordo molto bene però se voi andate ad approfondire anche la casa volendo può essere vista come una metafora di voi stessi e modificando la casa quindi i colori i mobili buttando via tutte le cose che non servono più vecchie che non vi piacciono impolverate automaticamente fate un lavoro su voi stessi e ricollegandomi ricollegandomi a questo concetto io ho rivalutato il fare le pulizie perché ho sempre odiato fare le pulizie ma da quando ho iniziato a ringraziare la mia casa io ringrazio anche mentre faccio le pulizie perché mi rendo conto che sto ripulendo anche me stessa da tutti i pensieri vecchi che non servono più da tutti i traumi del passato le memorie antiche vite passate eccetera mentre pulisco casa quindi capite il potere che abbiamo con il nostro pensiero con la nostra energia del cuore con la nostra gratitudine è potentissimo i numeri nell'oracolo ho messo anche grazie ai numeri perché da quando ho iniziato a fare caso che i numeri non mi apparivano mai casualmente sia le targhe delle macchine piuttosto che l'orologio guardavo l'ora ed erano le 11 e 11 le 12 e 12 ecco anche i numeri possono essere visti come i nostri le nostre guide i nostri messaggeri iniziando a ringraziare i numeri e andando soprattutto a vedere il significato dei numeri doppi dei numeri maestri e di tutto il mondo dei numeri perché poi c'è tutto un mondo la numerologia che potete considerare la vostra data di nascita perché ha quel numero che cosa vuole dirvi vedrete che la vostra vita diventerà meravigliosa perché perché andrete ad aggiungere la parte spirituale che solitamente non ci insegnano a noi insegnano da quando andiamo a scuola da piccolini i nostri genitori i nostri maestri ci insegnano le cose materiali come lavorare come guadagnare soldi come avere una famiglia una casa eccetera ma non non ci fanno conoscere noi stessi non ci fanno conoscere la nostra parte spirituale e invece questo questo diciamo oracolo è un modo anche per i bambini perché comunque sia le immagini sia come viene spiegato è molto elementare un po' come sono io può essere un buon veicolo per insegnare anche ai bambini la parte spirituale cioè come vedere la vita da un punto di vista spirituale non solo materiale ma c'è un'anima in tutto quindi anche non so ringraziare l'acqua voi avete mai ringraziato l'acqua prima di berla è molto importante perché l'acqua ha una coscienza e parecchi di voi qui lo sanno perché chi segue il giardino dei libri le sa queste cose tutto quello che ho appena detto voi sapete già tutto di questo e l'acqua ringraziandola recepisce le vostre frequenze di benevolenza e cambia la sua struttura e vi porta nel corpo la beatitudine quella famosa energia quell'implosione che cambia il vostro DNA questo fa la gratitudine aumenta l'energia che cambia la vostra struttura del DNA e vi vi connette a una frequenza perfetta la gratitudine perché è un sentimento che porta armonia e quindi vi connette all'armonia del tutto alla proporzione aurea vi connette vi connette a tutto quello anche di fisico e quantistico è stato detto fino adesso la famosa legge di attrazione perché cosa fa il vostro campo del cuore si amplifica crea questo vortice che è un'implosione in realtà perché porta dentro e fuori e quindi questo vortice di energia che voi emanate vi porterà altre cose da ringraziare e soprattutto coinvolgerà le persone intorno a voi perché quando le persone intorno a voi vi diranno eh ma tu non mi devi ringraziare non serve oppure ma tu ringrazi sempre e voi con un sorriso spontaneo direte ma io ringrazio perché io sto bene a ringraziare è bellissimo ringraziare non hai mai provato a ringraziare di cuore perché lo senti e allora lì dopo questo vortice questo toroidale di energia bellissima che è emanata dal vostro cuore viene sparsa a tutti e a tutto perché è questo che cambia le frequenze della terra non dobbiamo fare chissà quali atti o quali cambiamenti si tratta proprio giorno dopo giorno praticare la gratitudine per tutto quello che vediamo per tutto quello che ci capita e come dicevo prima anche le cose spiacevoli perché le cose che in quel momento sono spiacevoli non capitano a caso perché ovviamente voi inconsciamente le avete chiamate anche gli incidenti anche qualsiasi cosa le malattie gli incontri tutto succede per un motivo e ringraziando quel motivo che voi ancora non sapete automaticamente poi vi si apriranno tante opportunità vi cito molto velocemente un evento che è successo pochi giorni fa di un ragazzino che purtroppo è stato investito da una macchina è entrato in coma la sua mamma mi chiama per essere aiutata perché voleva che aiutassi questo ragazzino perché faccio meditazione a distanza anche per chi è in coma in quel momento il ragazzino stava decidendo se andare o stare e io ho detto semplicemente alla sua mamma che quel ragazzo in quel momento stava decidendo perché non gli piaceva la sua vita e lei me lo ha confermato io non conoscevo questo ragazzo mi ha confermato che era un ragazzo pessimista che si lamentava della sua vita era arrabbiato perché non aveva intrapreso quella facoltà universitaria che voleva ma un'altra non gli piaceva vivere non gli piaceva la sua famiglia non gli piaceva niente quell'impatto di quel giorno è stato un impatto importantissimo per lui perché lui in quel momento in cui era lassù che era tra la vita e la morte un po' come è successo a me ha davvero deciso di ritornare perché voleva ritornare e nel frattempo la sua mamma aveva qualcosa da risolvere quando vi dico che c'è sempre un dono dietro qualcosa era anche questo ovvero la sua mamma non parlava più con i suoi genitori perché si era risposata aveva avuto un'altra bambina e i suoi genitori l'avevano messa da parte non la volevano non volevano più parlare con lei e invece grazie a questo incidente i nonni sono andati a trovare il nipote e si sono riavvicinati a questa signora per cui tutto era congeniato dall'alto noi a volte non riusciamo a vedere le cose perché siamo da un punto di vista diciamo più o meno così ma andando in alto e vedendo le cose dall'alto poi riusciamo a capire che tutto era perfetto il ragazzo è ritornato dal coma ha fatto la sua riabilitazione adesso sta bene e probabilmente andrà all'Erasmus e i medici lo aveva andato per spacciato che probabilmente avrebbe avuto o non si sarebbe svegliato avrebbe avuto dei danni perché aveva dei danni assiali li han chiamati però in realtà poi alla fine sta molto meglio e non ha danni quindi per dirvi che la gratitudine è potentissima anche se vi sembra che in quel momento non c'è niente da ringraziare fate quest'atto di fede mi raccomando ringraziate io ringrazio questa cosa perché ancora non so cosa serve ma so che riuscirò a risolverla ma so che mi porterà qualcosa di buono ma so che migliorerà la mia vita e quella dei miei cari è così però dovete avere una grande fede una grande fede in voi stessi nelle vostre capacità perché voi potete superare tutto e anche nell'universo perché non siamo da soli qua c'è sempre un'energia amorevole che ci ascolta e che ogni volta che noi ringraziamo per qualcosa si adopera per farci ringraziare ancora di più quindi adesso se siete pronti io vi ho detto più o meno tutto riguardo a come si utilizza l'oracolo o un oracolo in generale e a perché tutti i giorni io consiglio di aprire un oracolo perché ci riporta a quegli atti antichi di ritualità di rituale spirituale che servono a nutrire la nostra anima noi non dobbiamo nutrirci solo di cibo di acqua ma anche di belle emozioni e quindi gli oracoli il mio in particolare della gratitudine e tutti gli altri vi aiuteranno tantissimo in questo e miglioreranno la vostra vita poi se avete un intento in particolare tipo macchina casa roba materiale che volete ottenere non sapete come ottenerla aprite a caso l'oracolo della gratitudine vedete cosa dovete ringraziare perché vi dirà esattamente dov'è il blocco dov'è quella cosa che ancora tu non hai ringraziato che però ringraziandola ti sbloccherà quella situazione fatelo e poi mi direte perché sono sicura che vi arriveranno tante belle sorprese adesso invece andiamo a fare questa meditazione che deriva sempre dalle meditazioni di Theta Love che io stessa utilizzo ogni giorno per riprogrammare le mie cellule e la mia vita quindi ci connetteremo alla madre terra prenderemo l'energia dalla madre terra ci connetteremo alla parte diciamo universale cosmica porteremo dentro di noi l'energia anche cosmica e maschile quindi nel nostro cuore si incontreranno l'energia della terra l'energia del cosmo e immaginiamole come due spirali che quella della terra è ascendente sale verso il cuore e quella del cosmo è discendente scende dal vostro settimo chakra fino al vostro cuore da lì si espande il vostro toroide il vostro campo energetico del cuore diventa una ciambella bellissima grandissima che va a come dire si espande in tutto l'universo diventate divini in quel momento e in quel momento in cui sarete delle divinità perché ricordatevi che ognuno di voi è una divinità in un corpo fisico in una sembianza umana ma in realtà noi siamo esseri intergalattici stellari che viaggiano nel tempo nello spazio quindi è questo che vi voglio trasferire questa sera sentendovi sempre più allineati alla vostra anima da lì andremo a chiedere di sviluppare da oggi la gratitudine incondizionata che è questo potere che è arrivato anche a me ovvero incondizionata significa che tu ringrazi senza chiedere nulla in cambio e ringrazi non perché c'è un motivo in particolare ma perché senti consideri quella cosa o quell'evento che ringrazi qualcosa di che ti dà beatitudine che ti dà pienezza che ti dà soddisfazione e ringraziando con soddisfazione ovvero sentendo anche il sentimento avrai nella tua vita sempre più soddisfazioni però si inizia così in dosi omeopatiche con le piccole cose quotidiane quindi alla mattina appena ci svegliamo che ci rimpossessiamo del nostro corpo che ritorniamo in questa dimensione già lì un bel grazie sono di nuovo qua e per chi invece dice oh che palle sono tornata qua ma chi ci voleva ritornare anche stamattina vi consiglio di riconsiderare questa questa cosa di riconsiderare il pianeta perché una volta lo dicevo anch'io poi invece se iniziate a riconsiderare il pianeta sotto tanti punti di vista vedrete che vi ricorderete che è proprio questo che volevate fare questa esperienza sulla terra anche se è uno dei pianeti più difficili e quindi se siete qua siete anime molto molto coraggiose complimenti di aver scelto questo pianeta perché è difficilissimo a tanti livelli come nei videogame però se siete qua è perché ce la potete fare e non siete da soli siamo in tanti siamo in tanti che parliamo questa lingua e quindi ci possiamo aiutare a vicenda allora adesso se siete pronti mettetevi in una posizione comoda senza incrociare le gambe e le braccia un bel respiro e chiudete gli occhi chiudete gli occhi e rilassate il corpo cercate di abbandonarlo completamente senza addormentarvi mi raccomando restate presenti a voi stessi e alla mia voce che vi parla ogni volta che ispirate portate dentro di voi l'energia della madre terra che sale dal centro di madre terra dove c'è il grande cristallo che dà vita la madre terra portate questa energia nel vostro corpo rilassate il corpo perché in questo momento non serve e percepite questa energia amorevole femminile sorridi perché ogni volta che sorridi il tuo corpo sprigiona automaticamente le endorfine che sono gli ormoni della felicità e ricordati che puoi sorridere sempre anche senza motivo non importa quello che pensano gli altri di te se tu sorridi ma sorridi perché in questo modo ti abituerai ad essere felice senza motivo ora immagina che anche dall'alto dal cosmo scenda una spirale di energia amorevole maschile questa è l'energia del padre che vi porta alla conoscenza è sempre lì in ogni istante vi basterà solo chiedere la conoscenza e vi arriverà come intuizione ora porta dentro di te questa spirale di energia fino al tuo cuore respira e sorridi ti stai colmando di amore materno paterno invisibile cosmico terrestre ora immagina che il tuo cuore si espanda talmente tanto da emanare un raggio di luce potentissimo che irradia tutta la stanza dove tu sei ora mentre respiri è come se il tuo respiro fosse un'ondata di energia bellissima arcobaleno che si propaga in tutta la stanza in tutti gli oggetti della casa in tutte le persone della casa gli animali le piante e tutto ciò che è nel tuo spazio e senti che puoi fare tanto anche solo con il tuo campo energetico del cuore hai una potenza incredibile perché è connesso al tuo pensiero di gratitudine di pienezza perché sei vivo può emanare questo raggio questa esplosione esplosione e implosione che va anche oltre la tua casa e va anche oltre la terra pensa quanto sei potente e quindi irradia questa energia bellissima in tutto il pianeta e senti che in questo momento pur essendo in casa tua e pur essendo qui davanti al pc puoi fare tanto per il pianeta e quindi puoi emanare questa energia a tutte le creature viventi della madre terra grazie alla tua benevolenza sta arrivando il bene a tutti e a tutto continuo a emanare questo raggio di energia bellissimo è il tuo che adesso si espande talmente tanto che si unisce a quello cosmico e a quello di tutti gli altri quindi diventi in questo momento tutto e tutti non c'è più separazione ed è proprio quando non senti più la separazione che non c'è più il giudizio e c'è la resa e quindi in questo momento io ti chiedo di arrenderti alla gratitudine e alla bellezza della tua vita se vuoi una vita meravigliosa abbi fiducia in quello che stai facendo adesso e chiedi con le parole all'universo questo energia universale cellule del mio corpo che mi state ascoltando io voglio da questo momento percepire la gratitudine incondizionata dal punto di vista più elevato che c'è da questo momento so come ringraziare qualsiasi cosa grazie e così e così sia ora immagina la tua vita che scorre da adesso in poi su un binario nuovo è molto importante che stai ad osservare rimani ad osservare il film il film della tua vita che scorre su un nuovo binario quello preferenziale dell'universo che è quel binario dove tu avrai tutto ciò che ti serve senza chiederlo nemmeno lo attrarrai per risonanza lo attrarrai perché sarai grato di ogni cosa per cui ogni cosa arriverà a te senza nemmeno non chiederla dovrai soltanto impegnarti così come sto facendo io ma con il cuore in coerenza impegnarti a ringraziare tutto ma proprio tutto e immagina che la tua vita avrà i colori che è sempre desiderato e le parole che è sempre desiderato e le esperienze che è sempre desiderato ed è quello che io auguro ad ognuno di voi con tutto il mio cuore e lo auguro ad ogni creatura vivente qui sulla terra rimani a percepire questa beatitudine perché è molto potente è proprio questa beatitudine che procurerà nella tua vita dei cambiamenti bellissimi e ricordati come si fa ad andare in questa frequenza perché è questa frequenza che ti porterà i cambiamenti che hai sempre desiderato quando sei pronto sei pronta poi pian piano farai ritorno nel tuo corpo completamente rigenerato e riprogrammato ad una frequenza ancora più armonica e bella in armonia con tutto e con tutti ora pian piano puoi ritornare nel tuo corpo nella tua vita nella tua stanza nella tua casa potresti anche vedere i colori in modo diverso sentire i gusti in modo diverso potresti avere delle sensazioni diverse dei tuoi sensi perché è quello che ha portato a me la gratitudine avere tutti i sensi più come dire spiccati un po' come gli animali perché questo perché quando tu sei consapevole di quello che stai annusando di quello che stai mangiando di quello che stai bevendo di quello che vedi è tutto più amplificato all'ennesima potenza e quindi potresti sentire questo potresti non avere più rabbia nei confronti dei tuoi nemici tra virgolette spero che nessuno di voi ne abbia però le persone che prima vi stavano antipatiche diciamo potresti sentire nel tuo cuore che non c'è neanche il motivo di essere arrabbiati con queste persone potrebbero succedere che delle cose che prima vi avevate male riuscite a viverle bene non vi spiegate il perché ecco ve lo spiego io è la gratitudine non state andando nei matti non sta succedendo niente di male anzi rallegratevi ciao Rosa vi hai ritrovato grazie è stato davvero bello ascoltarti e soprattutto per aver condiviso con noi questa meravigliosa meditazione grazie mille mi fa piacere ti sia ti sia arrivata nel cuore ecco si si sente anche se siamo attraverso a un vetro a un computer uno schermo e allora io mentre tu parlavi mi sono appuntata a molte domande assieme logicamente al mio staff perché non è che parli tutto da sola però prima di lasciare spazio alle domande volevo ricordare ai partecipanti che il libro oracolo della gratitudine lo potete acquistare sul nostro sito il giardino dei libri www.ilgiardinodelibri.it ha ben 128 pagine e chi lo acquisterà sul nostro sito avrà ben due regali in esclusiva creati appositivamente da Lorella per i clienti del giardino dei libri allora il primo regalo si tratta di una meditazione di Lorella De Luca dal titolo meditazione della gratitudine è un file audio mp3 da scaricare della durata di 4 minuti il secondo regalo si tratta di una preghiera l'arte di credere di Neville Goddard è un file pdf da scaricare e sono ben 20 pagine inoltre questa sera avrete anche le spese di spedizione gratuite un regalo che vi facciamo noi del giardino dei libri e per tutti quelli che hanno già acquistato in precedenza il libro oracolo della gratitudine sul giardino dei libri e non hanno ricevuto l'omaggio vi arriverà un'email con le istruzioni per scaricarlo senti Lorella prima di proseguire con le domande volevo domandarti se vuoi aggiungere qualcosa a proposito di questi due omaggi che io ho elencato sì allora la meditazione quella in mp3 se la volete ascoltare voi fatela basta una volta sola è già attivata poi però la potete anche condividere con i vostri amici se volete perché è proprio un'attivazione quella che aiuta come abbiamo fatto questa sera a sviluppare sempre di più questi sentimenti elevati che ce n'è tanto bisogno poi invece per quanto riguarda Goddard che è uno dei miei autori preferiti e vi consiglio di andarvi a prendere anche su youtube la scienza del diventare ricchi di Goddard e cambiare il futuro con il potere dell'immaginazione e perché è fantastico e infatti questo libricino che ho voluto regalarvi è l'arte della preghiera perché lui spiega scientificamente come avvengono le cose pregando in un certo modo e così come la scienza del diventare ricchi ti spiega scientificamente come diventare ricco e ci diventi perché comunque lui è un maestro in questo è anche l'arte di cambiare il futuro col potere dell'immaginazione è semplice immediato e a me è piaciuto tanto quindi sono contenta che lo avrete anche voi che lo conoscerete anche voi se non lo conoscete già bene allora Lorella iniziamo con le domande visto che il tempo passa velocemente ed è comunque è un piacere ascoltarti grazie sono felice non lo dico solo io lo dicono anche tutti i partecipanti che ci stanno scrivendo allora Lorella iniziamo con Olarp come si fa a ringraziare quando si è nella sofferenza psicologica o in situazioni difficili lì è difficilissimo è difficilissimo perché lì sei in un dolore fisico che ti impedisce di avere quella visione di cui parlavo prima del dopo del regalo anzi lì proprio c'è la rabbia c'è la delusione c'è il rammarico perché nessuno qua sulla terra dovrebbe soffrire ed è giusto è giusto viversi anche questi momenti è giusto accettare il dolore io penso che per ringraziarlo prima lo devi accettare come ho fatto io mi sono arresa mi sono arresa in quel momento sono rimasta lì nella sofferenza mi sentivo morire ma io sapevo sapevo che in quel momento non sarei morta perché volevo io stare qua quindi ricordatevi anche nella sofferenza chiedete chiedete aiuto alla vostra parte spirituale alla vostra divinità ma anche all'universo chiedete aiuto agli altri molto spesso noi abbiamo angeli intorno a noi non ce ne accorgiamo magari sono anche i nostri familiari io questo dico è l'unico modo per ringraziare è accettare e non abbattersi e cercare di chiedere aiuto e e di andare avanti dopo lo capiremo perché ringraziare bene grazie allora voglio continuare con Marta Marta ti domanda secondo te l'universo dopo aver ringraziato qualcosa o qualcuno ci può far capire qualcosa di brutto come prova per vedere se siamo veramente nel sentimento della gratitudine no io non credo che l'universo voglia farci dei dispetti più che altro siamo noi che pensiamo che qualcuno ci voglia fare qualcosa di brutto ma secondo me siamo più noi che in quel momento non ci fidiamo di quello che sta accadendo e pensiamo male e pensiamo subito alla punizione perché è una cosa perché è una cosa della chiesa che ci hanno impulcato quello quello della punizione del dispetto del adesso Dio ti fa vedere ti punisce no no in realtà nessuno punisce nessuno siamo noi stessi che ci autopuniamo perché non abbiamo fede e perché pensiamo male c'è giudizio c'è molto giudizio e invece in realtà se noi iniziamo invece a vedere le cose come eh mi è capitato perché sicuramente devi imparare qualcosa cioè vedetela anche un po' sdrammatizzate cercate di riderci sopra lo so che è difficile però noi secondo me ci spesso ci complichiamo la vita perché prendiamo tutto molto seriamente prendiamo tutto molto pesante invece in realtà possiamo fare un po' come gli alchimisti no possiamo trasformare possiamo alleggerire e a volte basta anche solo un sorriso una battuta ehm scrivilo su un biglietto quello che vuoi io nella Genesa dico sempre scrivi e metti in Genesa scrivi e metti in Genesa perché? perché voglio abituare le persone ad alleggerire a chiedere ma con facilità per gioco e vedrete che le cose cambiano Dio dopo sarà favorevole a voi non sarà più punitivo perché voi iniziate a giocare bene allora ora passiamo Antonella che ti domanda credi che gentilezze e gratitudine vadano di pari passo? Sì sì perché comunque le persone gentili è anche naturale essere grati ehm sì non penso che uno maleducato possa nel senso che non so arrabbiato sia grato secondo me sono frequenze elevate che vanno di pari passo sì secondo me sì sì ok vado avanti eh va bene? eh sì è curioso ancora un po' di tempo per noi sì bene allora passiamo a Teresa che ti domanda come utilizzare il libro della gratitudine nel quotidiano? lo dobbiamo usare tutti i giorni? sì 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 è nato per essere utilizzato tutti i giorni almeno fino a quando tu non arrivi a uno stato di gratitudine perenne che allora dopo non è più eh cioè non è più bisogno di una guida perché questa è solo una guida per iniziare un po' come quando si inizia a studiare l'inglese no? oppure quando si fanno degli esercizi di matematica no? che all'inizio ti serve il libro dopo una volta che sei entrato in quella frequenza dopo non è più necessario però secondo me può essere bello anche aprirlo tutti i giorni per una questione anche di ritualistica di crearti quel tuo rituale dove tu entri in te stessa e ti fai dire dall'oracolo che cosa è meglio ringraziare e non è solo una cosa automatica sì sì io lo consiglio anche ai bambini i bambini si divertono un sacco io l'ho portato all'asilo nel bosco sono contentissimi i bambini si divertono bene allora Sonia ti domanda come usare insieme la genesa cristale e gratitudine è bella questa domanda di Sonia perché infatti nascono come due complementi cioè sono complementari l'uno e l'altro perché la genesa è uno strumento radionico che porta l'implosione all'interno della genesa per far attivare la vita per dare vita a qualcosa di nuovo e la gratitudine è un sentimento verso qualcosa quindi nel caso tu voglia desideri realizzare un intento puoi scrivere sul bigliettino grazie perché ho ottenuto questo grazie perché ho questo cioè in pratica anziché chiedere ringrazi cioè trasformi invece di una richiesta è un ringraziamento anticipato in pratica e quindi lo metti nella genesa dopo il tuo ringraziamento anticipato e questo ti porterà a quello che tu chiedi ovviamente perché è come dire io voglio quello non so come non so quando non mi è dato sapere in che modo ma ti ringrazio perché c'è già nella mia vita questo è il concetto grazie mille e andiamo avanti con ho scelto due domande da parte di Piera e Gabriella che sono molto simili allora Piera ti domanda ho appena perso mia madre di che cosa dovrei essere grata Gabriella dice come superare la perdita di una persona cara mi dispiace tanto per questa tra virgolette perdita nel mio caso è stato ritrovare mio padre nei sogni il riuscire a ringraziare il fatto che lui adesso è partito perché per me è come se fosse partito non è morto è un'altra dimensione che però si vive vi consiglio per queste due persone il film No Solar che lo trovate anche su YouTube e parla proprio della vita dopo la morte io sono riuscita a ringraziare perché io lo sogno cioè in pratica quando prima di addormentarmi chiedo all'universo e a mio padre di poterlo incontrare là dove si trova e ho imparato a fare i sogni lucidi ovvero a fare dei sogni dove io incontro mio padre o mia zia tutte le persone che sono già nell'altra dimensione in questo modo ho superato questo distacco ho superato questa sensazione di mancanza questa sensazione di ingiustizia anche perché mio padre comunque era giovane e mi manca fisicamente però a livello spirituale è come se avessi diciamo digerito la cosa non so come dire gli ho dato un senso e io stessa non la vedo più come una cosa di perdita quando muore qualcuno ultimamente è andata nella luce la mia chihuahua ma io la sento con me cioè l'ho accompagnata io fino all'ultimo respiro e non si muore cioè muore la parte diciamo fisica ma l'energia c'è l'energia è qua con me anche adesso e non è una cosa che si dice tanto per dire perché uno crede perché uno fede no è proprio una sensazione se voi volete potete iniziare a sentire a livello spirituale a livello intuitivo l'altra dimensione e si può fare sia da occhi aperti qui svegli oppure nei sogni ci sono proprio delle tecniche dove impariamo a ricongiungerci con loro e spero tanto che voi lo facciate per stare meglio allora senti Lorella anche questa domanda ti chiede dopo la perdita di mio marito da parte di Antonella dopo la perdita di mio marito una pranoterapeuta capace di sentire la voce degli angeli mi ha detto che questa esperienza mi dovrebbe servire per dimostrare a me stessa che da sola ce la posso fare e questo doveva servire per la mia evoluzione perché mi rimane tanto difficile da capire e accettare per che cosa dovrei essere grata è difficile da accettare perché noi abbiamo l'attaccamento perché noi siamo molto attaccati a tutto quello che c'è qua non solo materialmente anche gli affetti anche i nostri cari e prima di staccarci da questo è difficilissimo cioè io ci ho messo anni per riuscire a elaborare il lutto di mio padre ma è importante lasciare andare le vecchie credenze i vecchi modi di pensare e entrare in quelli nuovi come quello che ti ha insegnato il tuo pranoterapeuta perché non è un caso che tu l'abbia incontrato è sempre stato comunque la tua anima che ti ha portato in quel momento davanti a quella persona che ti ha detto determinate cose e non è un caso neanche stasera che siamo qui a parlare di questo e io anche ti posso dire che anche se adesso tu non capisci perché è successo questa cosa bruttissima perché dispiace comunque in questo momento lui accanto a te in questo momento lui ti sta dando la forza di credere in te stessa quindi ti sta aiutando da una dimensione spirituale invisibile ma c'è e ti sta dando modo anche a te di credere in te stessa e di viverti una vita meravigliosa perché te la meriti che tanto lui c'è nella dimensione spirituale non è morto e magari uno mi prende per mata quando dico questo perché lo dico proprio convinta e sono convinta perché io ci vado quasi tutte le notti di là in quell'altra dimensione esiste e senza corpo però c'è magari guardati in ossolar perché in quel film c'è tanto a me è servito bene allora voglio continuare con Teresa che ti domanda come superare l'abbandono è possibile utilizzare la gratitudine per superare questo trauma sì 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 chi è che ti ha abbandonato io adesso rido no perché farei una mi piacerebbe fare una battuta però non mi prendere cioè non mi odiare io direi ma se ti ha abbandonato meglio che ti ha abbandonato scusa ringrazia perché molto spesso io mi accorgo guardando il mio passato che tutte le cose che sono finite io rimanevo aggrappata in realtà dico ma grazie a Dio che quella volta è successo quella cosa grazie a Dio che è successo il mio primo ragazzo quello che è successo grazie a Dio con il mio ex marito è successo perché dopo apri se tu inizi a dire vabbè se è successo grazie dopo tu ti apri a nuove possibilità ancora più belle perché non rimane aggrappata alla malinconia al senso di abbandono questa cosa triste no io quello che ti consiglio è non ti sentire abbandonata senti che invece la vita ti sta traghettando verso la la migliore realizzazione di te stessa e se quella persona non ci deve essere non c'è io questo ti direi però non mi odiare no anzi grazie per averci per aver risposto anche a lei poi proseguiamo con Ross siamo verso la fine perché vedo che siamo già alle ore delle due ok allora Ross ti domanda se nell'episodio del ragazzo accidentato lo stesso non fosse uscito dal coma e fosse deceduto il ringraziamento come va visto ha comunque una valenza positiva quale gratitudine si può vedere ne ho visti di questi casi che non sono ritornati tra cui il papà del mio ex marito anche lui era in coma io ho parlato con lui e lui era già sulla sua moto d'epoca e io gli ho detto ascolta Serafino qua ti aspettiamo e lui mi ha detto no 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 io ho già la mia moto qua non ci torno lì è stata dura è stata dura dirlo al padre delle mie figlie a mia cognata e mia suocera però se lui non voleva tornare era giusto che lui andasse dove voleva andare io non so dove è andato però dalla visualizzazione ho visto che lui era con la sua moto d'epoca che era pronto per andare in un'altra dimensione perché lui poi se tornava nel suo caso il suo corpo non poteva più funzionare quindi vedendolo da là lui vedeva il suo corpo che ormai non poteva funzionare ed è sempre stata una persona autonoma una persona libera una persona che faceva i raduni di moto un uomo meraviglioso e lui era felicissimo di andarsene quindi in quel caso io io accetto io accetto il libero arbitrio di quest'anima che in quel momento non se la sente più di ritornare in un corpo che tanto ormai non poteva dargli nulla e soprattutto facendo anche soffrire tutte le persone care perché quando uno torna da un coma che ha un corpo che non funziona più per i cari che devono prendersene cura non è bello e lui lo sapeva questo per cui che cosa ha fatto vi racconto questa perché è bellissima ok io gli ho detto ma scusa ma non li saluti neanche te ne vai così e lui dopo si è svegliato quel giorno lì addirittura i medici erano allibiti perché hanno detto ma in un caso così non è mai successo che uno si sveglia da questo tipo di coma ha salutato i suoi cari che io avevo precedentemente preparato perché comunque lo sanno che io parlo con le persone in astrale e dopodiché se n'è andato se n'è andato la notte dopo e non c'era nessuno con lui perché voleva andarsene senza destare nessun tipo di sofferenza quindi cioè dipende da che punto di vista vediamo le cose secondo me dobbiamo iniziare a vederle da un punto di vista più olistico più generale più ampio perché molto spesso le vediamo solo da punto di vista fisso ecco che ci hanno inculcato e il mio modo di vedere così è dato dagli studi che ho fatto perché comunque è anni e anni che leggo libri guardo film spirituali che parlano della morte mi sono fatta mi sono vista tutte le puntate di misteri dove parlano anche di quelli che hanno avuto delle esperienze di morte cioè è un sacco di tempo che studio per cui adesso credo di più in queste cose che in quello che vogliono dirci credo di più non è invisibile bene ti ho disturbato volevi finire no no sono io che non riesco mai a finire perché vorrei sempre parlare senti ti faccio questa domanda simpatica da parte di Luru ciao mi piacerebbe sapere cosa luccica al centro della fronte di Lorella lo vogliamo svelare è un brillantino ecco è un brillantino che c'ha che c'ha una colla e un biadesivo c'è l'adesivo dietro l'ho preso dai cinesi non è niente di che me l'ha regalato mia figlia e spesso me lo metto anche per uscire e e mi chiedono ma che cos'è che cosa vuol dire e io gli dico è per farmi riconoscere da quelli che da quelli che magari non sono spirituali perché quelli non spirituali appena mi vedono così mi stanno alla larga invece quelli spirituali mi vengono vicini e dicono ah che carino che cos'è mi chiedono allora dopo inizio a fare amicizia quindi dico è per riconoscere chi vuole starmi vicino e chi non vuole starmi vicino che bella questa risposta fantastica e senti invece mi allaccio un attimo a Angela e poi anche altre persone che chiedono in chat io vivo a Roma da parte di Angela tieni seminari in più Lorella ci sono alcune persone che vogliono sapere dove possono trovarti per favore io mi sono dimenticata questa sera di chiederti tutti i contatti per fare la slide mi dici bene esattamente se tieni seminari a Roma o anche in altre parti allora e dove la gente può chiamarti sentirti messaggiarti un'email allora io ho un profilo facebook che si chiama Lorella di Luce un profilo una pagina facebook che si chiama Lorella di Luce se nel profilo ci sono troppi amici non posso darvi l'amicizia quindi c'è la pagina con 17.000 iscritti poi c'ho il instagram e sono anche su tiktok quindi tutti questi social c'è il mio sito internet che è www.lorelladeluca.it dove potete andare a vedere delle cose mie e per contattarmi ho un numero whatsapp che è 331 4969 666 che comunque è scritto dappertutto anche su facebook eccetera e i corsi di gruppo ne faccio pochissimi attualmente ne faccio più in personalizzati one to one perché comunque mi piace portare avanti la persona in maniera che il corso sia adatto alle sue esigenze e non a una classe di 20 persone che dopo magari uno rimane indietro perché non ha soddisfatto le sue esigenze magari ha delle particolari diciamo predisposizioni piuttosto che altre e invece per quanto riguarda i corsi alcuni corsi che farò i prossimi saranno in Svizzera farò quello della creazione della pentasfera il 26 di giugno il 25 invece in Svizzera ho il workshop tutto il giorno sulla gratitudine dove presenterò l'oracolo e faremo le meditazioni di gratitudine e poi sarò a Modena in luglio sia per la gratitudine che per la Genesa Crystal ma tutti gli altri corsi personalizzati sul risveglio li faccio al telefono o a Roma se siamo a Roma andiamo nella natura in Pineta o al mare perché in casa o in ufficio non mi piace più mi piace più stare all'aria aperta perché così insegna la persona anche a connettersi con la natura con gli animali con gli alberi eccetera il mare il sole eccetera che bello adesso con queste magnifiche giornate è ancora più bello no? sì bene allora grazie per avermi date anche queste informazioni oltre me insomma a tutti i partecipanti che lo domandavano e grazie anche per aver risposto a tutte le domande insomma anche stasera il tempo a disposizione è volato e mi scuso se non sono riuscita a fare tutte le numerose domande che abbiamo ricevuto e stanno anche adesso arrivando ringraziando bella serata insomma tantissimi complimenti anche per te grazie e diciamo che abbiamo solo poco più di un'ora l'orella a disposizione ma l'abbiamo anche esplorato allora io voglio ricordare prima di andare in conclusione che il libro oracolo della gratitudine lo potete acquistare sul nostro sito il giardino dei libri www.ilgiardinodelibri.it ha ben 128 pagine e voglio adesso a me mi è arrivata a caso gli insegnanti l'orella voglio far vedere il libro perché all'interno ci sono queste bellissime immagini gli insegnanti mi è arrivato a caso devo ringraziare gli insegnanti e ci sono queste bellissime figure ecco qua non so se si vede bene e chi lo acquisterà sul nostro sito come dicevo prima avrà ben due regali in esclusiva creati appositivamente da Lorella per i clienti del giardino dei libri lo voglio un attimo velocemente ripetere il primo omaggio si tratta di una meditazione di Lorella De Luca dal titolo meditazione della gratitudine ed è un file audio mp3 da scaricare della durata di ben 4 minuti il secondo regalo si tratta di una preghiera l'arte di credere di Neville Goddard ed è un file pdf da scaricare e sono ben 20 pagine e come dicevo prima potete scaricarli subito dopo aver acquistato il vostro libro l'oracolo della gratitudine e inoltre questa sera avrete anche le spese di spedizione gratuite un regalo che vi facciamo noi del giardino dei libri e per tutti quelli che hanno già acquistato in precedenza il libro oracolo della gratitudine sul giardino dei libri e non ha ricevuto l'omaggio vi arriverà un'email con le istruzioni per scaricarlo infine se volete vi chiedo di lasciarci un messaggio sulla nostra pagina facebook instagram diteci se vi è piaciuta la serata e i vostri feedback sono preziosi per noi ci aiutano a capire se abbiamo fatto bene il nostro lavoro e ci fa piacere anche se ci lasciate un commento sotto al video della registrazione che sarà già pronta da domani vi arriverà una mail con il link della registrazione sicuramente Lorella appena può dedicare parte del suo tempo vi leggerà e chissà vi risponderà giusto Lorella? un piacere sì sì è sempre un motivo anche per me di crescita e di condivisione quindi lo faccio col cuore grazie e ricordatevi che potete vedere tutti i nostri webinar precedenti nella sezione webinar del giardino dei libri potete per esempio rivedere il webinar precedente tenuto da Lorella De Luca Genesa Cristal la geometria sacra che contribuisce a realizzare le nostre intenzioni ti ricordi luglio 2021 ricordi Lorella? va bene sì bellissimo lo ricordo benissimo era una giornata calda come oggi sì e poi tra l'altro è stato un webinar molto molto interessante per cui consiglio di andarlo proprio a rivedere per chi non l'ha visto poi prima di concludere e lasciarti ancora un attimo la parola ti chiedo ancora gli ultimi due tre minuti alla fine di questa mia descrizione perché voglio dire che i nostri prossimi webinar lunedì 6 giugno alle ore 20 e 30 avremo in collegamento Selene Caloni Williams Diamond Scopri il tuo spirito guida e guarisci gli amici mercoledì 8 giugno 20 e 30 avremo in collegamento il dottor Massimo Citro titolo Apocalisse li hanno lasciati morire allora Lorella ho cercato di fare più in fretta possibile e io ti voglio veramente ringraziare è stata una bellissima serata e siamo giunti alla fine ti chiedo se vuoi aggiungere qualcosa come messaggio finale ai partecipanti che sono veramente ancora tanti online che salutano bellissimo webinar grazie a Lorella grazie al Giardino dei Libri grazie ancora grazie per il bellissimo webinar insomma tanti tanti ringraziamenti ho acquistato il libro complimenti di esistere Lorella insomma tanti tanti bei messaggi per te allora così come adesso siamo nutriti scusa ti ho interrotto no no dicevo a te con che cosa li salutiamo cosa vuoi dire salutiamoli con questo entusiasmo l'entusiasmo di questa sera di portarlo ricordiamocelo anche domani nei momenti magari più stressanti della giornata nei momenti più così che ci sembrano insormontabili in realtà proprio grazie al potere della gratitudine possiamo farli diventare come una bolla di sapone che scoppia ve lo assicuro quindi il mio augurio per voi di riuscire da questa sera e per sempre a sentirvi sentirvi in un io lo chiamo il canale preferenziale dell'universo quindi in un canale dove le cose vanno come devono andare però per fare questo è necessario come vi ho detto ringraziare tutto se voi ringraziate tutto non lo vedete più come contro di voi ma per voi le cose vedrete cambieranno radicalmente vi ringrazio grazie dell'attenzione grazie 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 a te Lorella per essere stata qui con noi e dai commenti che vedo in chat vedo che è piaciuto moltissimo questo webinar per cui una bella serata grazie di cuore ti saluto ti mando un abbraccio grazie anche a voi anche il fatto che i libri sono gratis le spese di spedizione per stasera perché per me è tantissimo cioè come se lo avessi fatto a me grazie di cuore vediamo anche questo libro qui che è molto molto interessante sulla Genesa bene allora di nuovo grazie saluto tutti i partecipanti ci vediamo lunedì prossimo ti mando un grande grazie Lorella e un buon bacione buona vita a tutti grazie 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 anche a Sandro che era la regia ciao grazie Sandro e tutto il nostro staff e tutto lo staff è vero grazie ciao 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 ciao